Vieni nonna, per te attenta, 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 piano piano Io ti guardo Hai visto che cosa sono? Sono due sassi che hanno... Uno è Topolino e uno è una coccinella E' una coccinella e Topolino Questi sono dipinti sicuramente Dipinti, dipinti Io sassi così non li ho mai visti No, quello c'è lì fuori che mi ha fatto il gnometto No, stavo dicendo sassi in giro così non li ho mai visti Quindi saranno dipinti Sassi che sono dipinti, dipinti sì Me l'hanno già regalato uno Grazie, grazie Topolino La coccinella sai il portafortuna E' un portafortuna la coccinella Meno male Certo, la coccinella è la portafortuna Il Topolino non lo so, però il Topolino è bravo Il Topolino è bravo Perfetto, sei contenta? Contentissima Grazie, grazie Grazie mille Ma guarda che li ha dipinti Veramente dipinti Colorati bene Dei bei colori Grazie, grazie Grazie